Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un video relativo a una domanda che spesso e volentieri mi ponete in live ed è una probabilmente delle più dibattute anche per quanto riguarda le varie community che ci sono su Facebook, eccetera eccetera. Ossia, come si diventa un pro? Come faccio a farmi notare? Come faccio a far arrivare quelli che sono i miei risultati ad una società che possa poi interessarsi a me? Bene. Per quanto riguarda questa risposta credo che sia un qualcosa di articolato e vi voglio rispondere andando un po' a raccontarvi quella che è la mia storia. Di fatti ho sempre giocato a FIFA perché è uno dei giochi che più mi piace. Però diciamo che la mia storia competitiva inizia su FIFA 17 dove un po' per scherzo decisi di iscrivermi all'academy di una squadra, l'Empoli eSport, anche su consiglio, così, suggerimento di un mio amico. E fui preso dopo aver sostenuto quello che possiamo chiamare così un provino. Su FIFA 18 poi, a seguito di quelli che erano i miei risultati in Weekend League e dopo aver sostenuto un altro provino, entrai nel team ufficiale. Salvo poi arrivare a qualificarmi con il Last Chance Qualifier ai playoff di FIFA 18 ad Amsterdam e, insomma, poi è storia che per i più è nota, l'ingresso ai makers su FIFA 19, una stagione un po' travagliata. E, insomma, quest'anno poi mondiale per club, qualificazione al Torneo dell'Italia, qualificazione nuovamente playoff semmai si faranno, insomma, quindi una stagione nella quale sono tornato a dire quantomeno un po' la mia. Come ho fatto, dunque, io a farmi notare, l'avete capito, è stato, tra virgolette, facile, perché all'epoca c'era questa società che, appunto, ricercava giocatori, mi è bastato mandare una richiesta e poi sono stati i miei risultati a parlare per me. Ma si trattava anche di un momento storico differente, eravamo un po' agli albori dell'eSport, ai più era sconosciuto il competitive, e diciamo che di giocatori competitivi ce n'erano pochi. Già a partire da FIFA 19 è un mercato, questo, che si sta andando molto, 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 molto a saturare, perché di giocatori che fanno buoni risultati iniziano a essercene parecchi. E soprattutto le società, di conseguenza, iniziano a essere tante, interessate alla ricerca di player, e allora come fare a far prevalere il mio risultato su quello di un altro? Innanzitutto, un aspetto fondamentale, ragazzi, fondamentale, è quello della comunicazione. Perché se io ottengo un ottimo risultato, ma non sono in grado di comunicarlo in una maniera adeguata, questo risultato rimane a me, rimane a chi mi conosce, ma non riesco a farlo arrivare a chi mi interessa far sapere quel risultato. Quindi non dovete assolutamente andare a trascurare lato social, quindi, che so, Instagram, Twitter. Ragazzi, Twitter è un social che in Italia è veramente sottovalutato, ma per quanto riguarda l'eSport, è probabilmente il social per eccellenza. È lì che, ad esempio, io fui scautato dai makers tempo fa. Twitch è un'altra piattaforma dove potete cercare di comunicare in maniera efficace i vostri risultati, andando a streammare le vostre VL, le vostre qualifiche, eccetera. Un altro elemento fondamentale è proprio quello relativo a VL e qualifiche, perché spesso e volentieri la mentalità diffusa è quella che ritiene di considerare un giocatore professionista, è quella di vedere che fa 30-0, 29, top 100, risultati del genere in Weekend League. Ma in realtà non è così. Perché? I risultati che contano tanto sono sì quelli delle Weekend League, eccetera, ma sono quelli delle qualifiche, soprattutto. La Weekend League, ormai da due anni a questa parte, conta quella singola dove voi vi sparate il 27, ottenete il verificato che vi permette di partecipare, appunto, alle competizioni online per accedere agli eventi, e sono lì che i risultati contano davvero. Un altro elemento, poi, sempre relativo a questa questione, è proprio il titolo di PRO, perché spesso e volentieri vedo tante critiche, tanto astio, tanto dibattito sul web circa questa parola. Ma la parola professionista, ragazzi, non significa altro che colui che appunto da questa passione ne è riuscito a trarre un lavoro. Di conseguenza, è una persona che prende dei soldi, prende uno stipendio, e da questa passione, appunto, riesce a vivere, di questa passione riesce a vivere. Ed è un qualcosa che chiaramente non riescono a fare tutti, non riescono a fare neanche quelli che sono giocatori tanto forti, che oltre ad essersi fatti notare per quanto riguarda le Weekend League, hanno fatto magari anche bene in qualifica, sono riusciti anche ad arrivare a eventi, ma non sono riusciti ad accedere a quella parte professionistica perché, insomma, per mille motivi, perché, come vi dicevo in precedenza, quello che va a formare effettivamente la figura del giocatore professionista non è solamente il risultato meramente esportivo, ma il videogiocatore professionista ormai è inserito all'interno di un'industria, che è quella e-sport, dove gira un vero e proprio business, che è costruito a 360 gradi sulla figura di videogiocatori, in quanto bisogna lavorare tanto su quello che è il proprio brand personale, ossia cercare di creare una vasta utenza su diversi social, eccetera, eccetera, perché è quello anche che le società ricercano, perché va bene il giocatore forte e vincente di successo, ma se avete un giocatore forte e vincente di successo in una società che però non siete in grado di rivendere ad un potenziale sponsor, a un potenziale investitore, il tutto rimane fino a se stesso, perché ovviamente quello che è l'ottica delle società è quella di riuscire a ricavare e a ottenere un determinato posizionamento all'interno di questa industria, di questo settore, che è appunto l'e-sport. Di conseguenza, ragazzi, il processo, chiamiamolo così, per diventare un giocatore professionista o comunque per cercare di entrare a far parte di realtà e-sportive che siano più o meno consolidate, è un qualcosa che necessita, come un po' tutti quelli che sono i lavori, un po' quelli indipendenti, ma anche quelli dipendenti della gavetta. Bisogna cercare di partire a testa bassa con un'umiltà, non solo all'inizio, questa testa bassa è bene che uno la mantenga sempre, altrimenti poi vi montate la testa, eccetera, insomma, non è mai positivo, ma è la gavetta. La gavetta è l'elemento fondamentale, è quella cosa che, insomma, non dovete sottovalutare, non dovete avere quella voglia di arrivare subito, perché è quella che, insomma, vi frega. Dovete prendervi il vostro tempo, fare le vostre esperienze e soprattutto mai smettere di crederci, di crederci, di sognare, perché se voi avete un sogno, nessuno è in grado di potervi dire no, voi non potete farlo, o voi dovete fare così, no. Certo, è bene stare ad ascoltare quelli che sono magari i consigli di chi in questo settore, tra virgolette, ce l'ha fatto, ha acquisito dei risultati, appunto, per poter cercare di coronare anche il vostro disogno, ma, insomma, mai farvi tarpare le ali e mai smettere di crederci, ragazzi, perché se avete una passione è quella che deve guidarvi, non dovete mai partire con l'ottica di dire no, io voglio fare il giocatore professionista perché si guadagna X o si guadagna Y, è uno sbagliatissimo. Quello deve essere solamente un riconoscimento che arriva alla fine di un percorso che, appunto, vi porta poi a trasformare il tutto in un lavoro, ma è un percorso lento, un percorso graduale, che però, se fatto in una certa maniera, riuscirete poi a portarvi delle soddisfazioni. Quindi questo, diciamo, è quello che ne penso io sull'argomento in maniera anche abbastanza stringata, va, perché ci sarebbe anche da parlarne probabilmente per più tempo, e anche, anzi, spesso e volentieri, in live su Twitch è un tema che è tratto, però ritenevo opportuno avere qui, su YouTube, un video fissato, diciamo, che potesse ritornare utile a tutti coloro che vogliono intraprendere questo percorso. Spero che il video vi sia piaciuto, che possa aver, insomma, contribuito a darvi qualche consiglio utile, e è nulla. Vi saluto, vi ringrazio, e vi do appuntamento ogni giorno in live su Twitch dalle 12 alle 16. Ciao, ragazzi. Peace.